Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session di venerdì 25 agosto. Sono le 22.18 in Italia, da noi è un'ora più tardi, qui a Corfu, e stiamo entrando nella solita lateralità, anche se, come vi raccontavo, abbiamo avuto da questo momento in avanti ancora uno spunto di salita, ok? E poi siamo scesi, quindi cancelliamo questa parte, perché è ciò che è successo. Ora abbiamo, d'inverso, chiuso un primo t-2, ovvero un ciclo a due giorni. Da qui c'è stata quindi una bella discesa, che è arrivata però tardi, purtroppo, sull'indice. Siamo arrivati a 28 barre a fare la violazione e poi abbiamo subito rimbalzato. Infatti è andata benissimo nell'entrare short in violazione, perché se non avevamo fatto pochissimi punti e poi ci saremmo trovati in faccia a tutte le altre candele, ok? Non sarebbe stato affatto piacevole come cosa. C'è da dire che da qui può essere serenamente partito il terzo t-3 inverso, qui il secondo è difficile che non si sia chiuso, appunto qua insieme al t-2 inverso, quindi darei per buona la centratura. E con la partenza del terzo t-3 inverso siamo di nuovo ridicesi sotto la media mobile a 200 periodi e abbiamo curvato quella a 50 che rischia di andare in death cross e di portare altra negatività. Per cui, altre discese, per cui il punto focale è vedere se riusciremo di nuovo a superare il massimo di questa candela a 26.080 dollari e a rimanerci sopra, e rimanere sopra la media mobile a 200 periodi. Se infatti, disgraziatamente, non riusciremo a rimanere sopra, che cosa facciamo? Eh, io ho già messo un allarme perché nel caso valuterò se da qui può essere partito un nono t-3 e andrò short se appunto andremo sotto questo minimo, il minimo di questa candela, a 25.816 dollari. Il rischio però di andare in lateralità, come ben sapete, quindi gli allarmi li metto, ok? Siamo oltretutto a 36 barre, purtroppo non avendo conferme dagli swing, soltanto se andassimo dopo la 44esima barre, ovvero dalla 45esima barre in avanti, ovvero dalle 5 di domani mattina in avanti, sotto questo minimo, valuterò lo short. Se ci andremo prima, ahimè, potrebbe essere soltanto ancora una chiusura di ottavo t-3 e qui può non essere partito assolutamente nulla, anche se il tempo c'è, il tempo c'è, ok? Però quando si va così tanto in lateralità, ok, o si utilizza un tecnica 2 nel momento giusto se purtroppo non ero qua davanti a monitor perché stavo nuotando e non ho potuto fare appunto l'operazione, oppure si fa ben poco, ok? Il tecnica 2 è stato proprio il nuovo, quello aggiornato, è stato proprio lavorato per ovviare a questi giorni di lateralità. Se non c'è un vincolo, almeno se c'è un eccesso di prezzo, noi sappiamo come muoverci. Qui ribadisco, occhio a se saliremo e rimarremo stabilmente sopra i 26.080 dollari e se riusciremo a penetrare qui sopra, viceversa, rischia di continuare a lateralizzare barra scendere. A questo punto bisogna fare anche però altre considerazioni. Avete visto, no? La centratura. Qui siamo arrivati all'ottavo T-3 su massimo 11, ottavo giorno su massimo 11 di un settimanale. Corriamo ancora il rischio di tornare qui sotto a 24.713 dollari? E ai mesi, ok? Non sto a raccontarvi storie. Fino a quando non avremmo esaurito il tempo di indice, il rischio c'è. Ovvero abbiamo rischio ancora per tre giorni, quindi sabato, domenica e purtroppo lunedì. E lunedì può muoversi più facilmente. Ma già da domenica pomeriggio, come sapete, ok? L'altro allarme che metto è qui sopra, ovviamente, perché se si tornasse qui sopra, qui avremmo la possibilità di valutare effettivamente un long con più tranquillità, perché è molto più probabile che ci sia appunto stata una chiusura del T-2 inverso qui, che con questa forza si sia andata a creare una partenza di nuovo T-2, e quindi invece un superamento dei 2.326 dollari ci porterebbe, prima, un superamento prima delle 22-23 barre, ci porterebbe a fare un long, ok? Direi che è tutto, vi ringrazio per il vostro tempo e mi preparo per andare a dormire perché domani finalmente farò due immersioni con bombole dall'altra parte dell'isola e quindi devo essere pronto a fare una bella colazione e poi mettermi in marcia per arrivare ai siti di immersione. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata. Arrivederci!